Ciao, benvenuto in questa nuova puntata della nostra rubrica C'era una volta. Oggi, se pronto, ti porto con me a casa della nonna di Dorina perché proprio lì sopra c'è una soffitta forse magica. Sei pronto? La nostra storia di oggi si intitola Dorina e la soffitta della nonna. Oh, finalmente! Dopo così tanto tempo che glielo aveva chiesto, in quel pomeriggio d'inverno la nonna aveva concesso alla piccola Dorina di salire su nella soffitta di casa sua. Dorina, da bambina curiosa quale era, aveva spesso chiesto alla nonna «nonnina, per favore, mi fai salire in soffitta? Non ci sono mai stata, vorrei tanto vedere cosa ci tieni conservato». Ma la nonna non le aveva mai permesso di salirvi. Forse temeva che la nipotina potesse romperle uno dei suoi piccoli grandi tesori conservati nella sua bella soffitta. Però quel pomeriggio, proprio mentre la nonna scendeva dalla soffitta dove era andata a riporre dei vecchi scatoli, fu concesso alla piccola Dorina di salire fin lassù. «E va bene, Dorina, sali pure, io intanto sono in salotto a lavorare a maglia». «Evviva! Finalmente!» Dorina aveva ricevuto il permesso di salire su per quelle scale di legno. Come era soddisfatta! Poteva vedere con i suoi occhi cosa fosse conservato lassù. Gradino dopo gradino ecco che Dorina arrivò fin su. La luce era già accesa perché la nonna da poco aveva sistemato i suoi scatoloni su una mensola. Quella soffitta era una gran bella scoperta, piena di oggetti molto carini. Dorina li prendeva tra le mani uno per volta. Indubbiamente quella era davvero una sorpresa. La sua cara nonna teneva conservati un po' ovunque in quella soffitta degli oggetti davvero deliziosi. Scatole di latta, animaletti di pelusci, di paglia, di porcellana, cuscini meravigliosi. Ma che posticina incantevole sembrava di essere in una favola? Ops! Ad un certo punto si fulminò la lampadina che illuminava la soffitta. D'improvviso si era fatto tutto un po' più buio, dalla piccola finestra filtrava però un po' di luce dal momento che era ancora pomeriggio, ma di sicuro non si riusciva più a riconoscere nulla. In un angolino però a terra, sotto il muro, Dorina vide una lucina. Oh, ma che sarà mai? Si abbassò con le ginocchia a terra e cercò di dirigere la mano verso quella piccola luce. La toccò ma era fissa a terra e non si staccava. Avvicinò dunque gli occhi ed esclamò che meraviglia! Era un funghetto. Anzi no, era una casetta. E così era una casetta funghetto e dentro vi era una luce accesa. La curiosità era troppo forte. Chi poteva mai abitare in quella casetta a forma di fungo? Dorina allungò il mignolino, lo piegò e toc toc bussò a quella porticina marrone, ma non successe nulla. Così avvicinò l'orecchio e concentrandosi molto iniziò a sentire delle vocine che provenivano da lì dentro. Ma cosa sentivano le sue orecchie? Eh sì, da quella minuscola casetta provenivano delle voci che recitavano una poesia. Lì dentro c'era qualcuno molto molto piccolo che esclamava. C'era un bel prato e al centro c'era un mercato, verdure e fiori dai mille colori. Poi Dorina sentì che qualcun altro interrompeva la poesia. Fratellino no, non essere così precipitoso, bisogna recitare con più espressione. Dorina allora ribussò col mignolino, toc toc, e da quella casettina qualcuno urlò, avanti. Ma come avanti? Dorina era così grande, come faceva ad entrare? Poi d'improvviso qualcuno dall'interno aprì la porticina. Oh ma che carini, in quella casetta funghetto abitavano dei bruchetti verdi parlanti. Il bruchetto che aprì la porta guardò Dorina, la fissò e cominciò con una voce solenne. Buongiorno, noi siamo i bruchetti verdi suggeritori ufficiali di bambini. Abbiamo un compito molto importante. Noi suggeriamo durante le reciti a scuola ai bambini che devono dire poesie. Qui in casa ci alleniamo tra noi bruchetti ad imparare le poesie e poi quando è il momento sgusciamo fuori andiamo a scuola insieme ai bambini tenendoci aggrappati sulle loro spalle. Quando gli alunni raggiungono il palco e si mettono al microfono, noi fermi fermi ci avviciniamo alle loro orecchie suggeriamo le poesie. Così nessun bambino farà mai la brutta figura di sbagliare o dimenticare qualche rigo. Funziona sempre, sai? Ora stiamo ripassando una poesia intitolata al mercato nel prato. E Dorina, ma io sto parlando con dei bruchetti, ma com'è possibile? Però vi faccio subito i miei complimenti. Il compito di suggeritori ufficiali di bambini ha la sua enorme importanza. Ora capisco perché i bambini nelle recite scolastiche sono sempre bravi. Complimenti davvero! Ad un certo punto si affacciarono a quella graziosa porticina marrone e altri bruchetti che si rivolsero subito al bruchetto che per primo aveva parlato e gli dissero Fratellino, eh su su, non possiamo fingere così. Questa bambina è magica come noi. Lo si capisce dal fatto che sta qui a parlarci. Deve sapere la verità. Forza fratellino, devi dirle tutta la verità. E il bruchetto rivolgendosi alla bambina disse, eh scusaci bella bambina, non ti abbiamo ancora chiesto come ti chiami. E Dorina, io mi chiamo Dorina, ma non sapevo di essere magica. E il bruchetto le rispose, Dorina cara, certo che lo sei, stai parlando infatti con noi. Non credi sia raro che un bruchetto ed una bambina possano parlare? Ma può succedere. Di solito accade solo ai bambini che la sera, prima di addormentarsi, immaginano una storia fantastica per poter prendere sonno. E io credo che tu lo faccia, vero? E Dorina sbalordita esclamò. Eh sì, io ogni sera immagino di volare in groppa ad un cavallo alato e di visitare mille mondi incantati. Ecco, esclamò il bruchetto, vedi che abbiamo ragione, tu sei magica come noi. E allora i miei fratellini hanno ragione, devi sapere la verità. Poco fa ti ho detto che noi siamo i suggeritori ufficiali dei bambini quando recitano le poesie. Eh beh, dobbiamo confessarti che non è proprio così. Sai una cosa? I bambini non hanno bisogno di essere suggeriti da noi, le loro capacità sono eccellenti e ricordano sempre alla grande le poesie imparate. Siamo noi che andiamo a scuola nascosti sulle loro spalle per imparare nuove poesie. Siamo noi che vogliamo imparare da loro. Di solito i bambini sanno che reciteranno bene le poesie perché credono che ci siamo noi a suggerirli e così si sentono più sicuri. Ma non è così. Quando loro recitano delle filastrocche noi stiamo lì per imparare a memoria da loro. Poi torniamo qui in casetta e quello che abbiamo imparato lo scriviamo nei nostri quaderni per continuare a studiare. I bambini sono eccezionali, tutti, nessuno escluso e noi non possiamo fare altro che imparare da loro. Dorina, felicemente sorpresa, disse. Grazie bruchetti, grazie perché credete davvero che noi bambini siamo tutti speciali e davvero in gamba. Vi voglio bene e grazie per far compagnia a tutti i bimbi quando salgono sul palco per le recite a scuola. Ora vi devo salutare ma per favore prima di scendere vorrei recitare con voi la bella poesia che state imparando. E bruchetti. D'accordo Dorina, tutti insieme, via! Il mercato nel prato. C'era un bel prato e al centro c'era un mercato. Verdure e fiori dai mille colori su quell'erba ad impegnare i venditori. Passarono di lì cinque bambini tutti felici e sai canterini. La fragola voglio, disse il primo, dirimando il secondo. Io scelgo il mandarino. E subito il terzo. Il mazzolino di primule è mio. Ma il quarto incalzò. Ehi, ci sono anch'io. Arrivò il quinto che mise pace. Qui nel prato si tace. Poi quando prenderete quel che vorrete, ai venditori un grazie di cuore direte. Che simpatica poesia! Ma ormai Dorina doveva scendere in salotto perché sentiva la nonna da sotto che la richiamava. Prima di farlo però ringraziò i bruchetti. Oh cari bruchetti, ancora grazie. In questo pochissimo tempo che ho trascorso in questa soffitta ho vissuto una magica esperienza che non potrò mai dimenticare. Ed ho anche imparato una simpatica poesia. Complimenti, siete fantastici. Ciao! E il bruchetto. Dorina cara, è stato per noi un onore averti conosciuta. Hai gli occhi svegli, vivaci, curiosi di una brava bambina. Non smettere mai di immaginare storie fantastiche. Ti sarà sempre utile nella vita. Credene nella fantasia. Ciao! E così dicendo quella porticina marrone si chiuse. Dorina iniziò a scendere le scale ma nella mente aveva ancora quei simpatici versi che riprese a recitare con allegria. C'era un bel prato, al centro c'era un mercato, verdure e fiori dai mille colori. La nonna lasciò il suo lavoro a maglia improvvisamente e disse. Ma Dorina, nipotina mia, come fai a conoscere questa poesia? L'ho inventata io quando ero piccola come te, una volta che rimasi quassù in soffitta a giocare. E Dorina, nonnina, nonnina cara, secondo me questa soffitta è un po' magica. Bene, ci siamo divertiti con dei simpatici bruchetti che hanno insegnato a Dorina una bellissima poesia. Di sicuro anche tu conoscerai una filastrocca, una poesia che avrai imparato. E allora sai cosa ti dico? Commenta qui sotto, fai commentare ai tuoi genitori con la poesia più bella che tu abbia mai imparato. Forza, ti invito a commentare qui sotto il video con la tua poesia preferita. Adesso ti saluto, ciao e alla prossima puntata!